Una scommessa vinta grazie al progetto Trani Outings Friendly e al gruppo Megamark, Emanuele Bove e Bernardo Valente, entrambi ventunenni, sono stati assunti a tempo indeterminato nella notarietà tranese, leader della distribuzione del Sud Italia. Emanuele lavora nel supermercato DOC di Via delle Tufare, mentre Bernardo negli uffici centrali. I due ragazzi sono stati assunti al termine di un proficuo tirocinio dove sono stati seguiti passo dopo passo sino al raggiungimento di questo traguardo davvero speciale per loro. Sono molto felicissimo e contento di questa esperienza lavorativa, poi sono molto contento e felice di firmare questo contratto. Il contratto part-time è sempre stata la mia passione preferita per andare a lavorare, quindi sono stato il mio super soddisfatto migliore da fare da poter lavorare qua con tutti i miei colleghi di lavoro che mi hanno trattato bene come se fosse un gioiello per me. È una cosa buona soddisfazione, una cosa molto più importante della mia vita, perché purtroppo lavorare è sempre stato un sollievo, le mie capacità, la mia soddisfazione, tutte le mie emozioni che mi hanno sorriso contro di me. Una grande gioia condivisa con i genitori del ventunenne. Tanta gioia, ringraziamo Megamarket per questa opportunità che ci è stata data, è importante per lui, per la sua crescita lavorativa in questo momento, ma anche perché così essendo nella società per loro c'è sempre poco. Amicizie ne hanno poche niente, e quindi per il contatto nella società qual è la migliore opportunità che è stare nel mondo del lavoro? Perché così hai a che fare con gente, si aprono di più, cercano di essere utili per loro e per la società. Anche Bernardo Valente non nasconde la sua soddisfazione per l'incarico importante ricevuto negli uffici principali del gruppo Megamark. Per lui, una bella scoperta. L'ho già detto una volta quando ho iniziato questo tirocinio, Megamark mi ha sorpreso in positivo. Non conoscevo molto di questa realtà dei supermercati e soprattutto della parte che sto facendo io, ma grazie anche alle persone che ho conosciuto a lavoro, grazie anche a tutto quello che mi sono disegnato durante il tirocinio adesso, in questi giorni, mi sono quasi innamorato di Megamark. Un progetto partito da lontano circa tre anni fa e che oggi porta frutti importanti. L'autismo non è un limite, ma può rappresentare un'occasione. Emanuele e Bernardo lo hanno dimostrato. Se lo sono meritati, devo dire che loro hanno fatto un percorso così come lo fanno tutti gli altri ragazzi. Non sono stati trattati diversamente perché loro non si vogliono nemmeno sentire chiamati ragazzi speciali. Quindi abbiamo fatto una valutazione oggettiva e devo dire che quello che ci hanno regalato loro e le emozioni che ci hanno dato valgono molto di più rispetto a quello che diamo noi ogni giorno. Il plauso arriva dal promotore principale del progetto, Trani Outings Friendly, Fabrizio Ferrante. Sono inseriti a pieno titolo in questa comunità dal punto di vista lavorativo, non semplicemente con un progetto di inclusione momentanea, ma poi un progetto di inclusione per la vita. Questi ragazzi da oggi hanno segnato in maniera positiva il loro futuro e ovviamente non è una cosa da poco. Credo sia il primo evento del genere nell'Italia meridionale.